Ciao a tutti e agli amici ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Angolo di The Voice. Come sempre ringraziamo chi ci ascolta e chi ci vede sul Nettuno TV, sulla pagina Facebook dell'Angolo di The Voice, la pagina YouTube e sullo streaming di Nettuno TV. Ben ritrovati, oggi affrontiamo un tema importante, parliamo di legittima difesa, vado subito a presentare il mio ospite che è l'avvocato Salvatore Tesoriero, avvocato benvenuto qui all'Angolo di The Voice. Grazie, grazie per l'invito di cui sono lieto, spero insomma di poter interlocuire con voi, di essere d'aiuto alla comprensione dell'argomento di cui parliamo. Grazie mille avvocato per la sua presenza, ti do del tu così almeno siamo anche un po' più in famiglia, anche per chi ci osserva in questa puntata. Oggi parliamo del tema della legittima difesa, è un tema particolare, un tema che sta tenendo manco anche in questi ultimi tempi a livello di governo, è un percorso difficile, ci sono tante cose da dire. Partiamo dal primo punto, partiamo proprio dalla legittima difesa, che cos'è a livello generale prima di addentrarci in quello che è poi l'ambito, definiamolo così giurisprudenziale. Partirei da questo, la legittima difesa ovviamente ha una serie di addentellati e di valutazioni che possiamo svolgere e che attengono all'attualità, ci arriveremo, ma in sé la legittima difesa è un istituto, un istituto di diritto penale che è conosciuto da tantissimi ordinamenti, perché risponde ad un'esigenza di fondo particolarmente importante e che fa parte quasi della struttura degli ordinamenti democratici, degli ordinamenti dello Stato liberale e cioè fa fronte a quelle ipotesi nelle quali il cittadino ha bisogno di difendersi, ha necessità di autotutela e lo Stato, che tendenzialmente nel diritto diciamo penale moderno ha il monopolio dell'uso della forza, non riesce ad arrivare. Quando lo Stato non riesce a fornire tutela al cittadino, il cittadino per difendersi, per difendere la propria incolumità, per difendere i propri beni, può avere la necessità di compiere delle azioni che in sé astrettamente e tipicamente sarebbero dei reati, reagire a un tentativo di intrusione della propria sfera di libertà o reagire al rischio di lesione della propria vita o dei propri beni più cari, può integrare di per sé un reato nella misura in cui questa reazione poi si concretizzi nell'uccisione, ad esempio, della persona che ti aggredisce oppure nella lesione di questa persona e tuttavia gli ordinamenti su questo versante hanno l'esigenza di valutare se quella reazione sia stata una reazione legittima, cioè una reazione funzionale esclusivamente a proteggere se stessi o i propri beni. Nasce da qui l'istituto della legittima difesa che altro non è dal punto di vista tecnico che è una causa di giustificazione di un fatto che in sé sarebbe un reato e che invece la cui componente delittuosa viene meno per gli ordinamenti proprio se nella misura in cui quella difesa sia legittima. Per quanto riguarda l'ambito generale ci spostiamo invece proprio nell'ambito del diritto. La legittima difesa, in questo caso nel diritto penale, in cosa consiste? Cosa prevede la normativa in questo momento? La nostra normativa, cioè la normativa attualmente in vigore nel codice penale, è il risultato di un percorso legislativo, un itinerario legislativo che ha avuto una tappa importante all'esito di un dibattito anche molto noto di cui probabilmente si potrà aver ricordo perché è un dibattito che si svolse a cavallo tra il 2005 e il 2006. La nostra normativa sulla legittima difesa in quella occasione, nel 2006, con una legge, la legge 59 del 2006, venne riformata. Quindi allo Stato noi abbiamo una doppia disciplina, diciamo così, della legittima difesa. Da un lato vengono definiti dal legislatore i requisiti che l'attività di difesa deve avere per essere legittima e di conseguenza scriminare la condotta di chi reagisce. Dice il nostro codice che una difesa è legittima se l'offesa che viene apportata è un'offesa ingiusta, se vi è attualità del pericolo che poi viene apportato e la necessità quindi di reagire attraverso la condotta diciamo difensiva e soprattutto, elemento fondamentale, se vi è proporzione tra l'offesa e la difesa. Guardate, un tema abbastanza intuitivo, nel senso che se l'offesa è apportata con un mezzo, ad esempio, non particolarmente pericoloso, il soggetto che aggredisce non ha alcuna arma ed è apportata anche con modalità che vengono accertate a essere non particolarmente aggressive o pericolose per incolumità del singolo oppure per la difesa di un proprio bene, potrebbe essere sproporzionata un'offesa ad esempio apportata con mezzi che siano dei mezzi letali, una pistola per capirci, per sparare. Per la serie a mani nude, una persona e l'altra persona che ha un coltello o una pistola. È esattamente così, questi tipi di requisiti uniti ad un altro requisito, forse accennavo prima alla necessità, si aggiunge l'attualità, ci deve essere attualità del pericolo che viene apportato, sono i requisiti che definiscono la difesa come una difesa legittima, cioè se ci si difende in una situazione in cui vengono accertati questi requisiti, il comportamento è un comportamento scriminato, il comportamento difensivo è scriminato, ovviamente questi tipi di requisiti devono essere accertati e accertati in sede giudiziaria, cioè sarà un giudice, prima un pubblico ministero, aprendo un procedimento penale e svolgendo le indagini, poi eventualmente nel caso in cui sia necessario un accertamento giudiziale, un giudice a definire se ci sono questi requisiti e se il comportamento è scriminato. Nel 2006, accanto a questa ipotesi classica di legittima difesa, venne introdotta una seconda ipotesi, la cosiddetta legittima difesa domiciliare, cioè la possibilità nel proprio domicilio o nei luoghi che il codice si ha equiparato al domicilio, di utilizzare un'arma legalmente detenuta per far fronte a un'aggressione in corso e quindi come dire, ci deve sussistere il pericolo che vi sia questa aggressione e il reo, dice il codice, cioè chi commette l'azione delittuosa non deve aver desistito, per capirci non è legittimo sparare al ladro in fuga, ci deve essere un'azione in corso, un'azione aggressiva in corso. In questi casi l'arma, nel caso in cui il soggetto si difenda attraverso un'arma legalmente detenuto o altri mezzi legalmente detenuti e si versi nell'ipotesi di un domicilio, di un'aggressione nel domicilio, il codice dice che è presunta la proporzione tra l'offesa e la difesa. Come una sorta di eccezione è una ipotesi nella quale è più ampia la possibilità di difendersi attraverso questo meccanismo presuntivo per via legislativa. Quindi questo è lo stato dell'arte, uno stato dell'arte per concludere, però in cui, come dire, non può che essere così, dal mio punto di vista non c'è nessuna licenza di uccidere, per capirci, non c'è licenza di uccidere neanche quando un ipotetico ladro si intrometta nel nostro domicilio. Perché? Perché vi devono essere comunque, perché venga legittimamente utilizzato un'arma in chiave difensiva, i requisiti previsti alla legge. Allora, faccio un attimo un esempio, così anche per chi comunque ci vede, ci osserva, andiamo un po' più sul, possiamo chiamarlo semplice, ma forse la praticità, da una maggiore mano. Il classico esempio, chiamiamolo di scuola, il classico esempio universitario, una coppia di persone, arrivano dei ladri in casa, la persona detiene un'arma, sotto questo aspetto cosa succede? Cioè, se non c'è un'aggressione da parte tipo della persona, quindi possiamo chiamarlo del ladro, della persona che commette, possiamo dire, questo reato, la persona non può tipo sparare, tra virgolette, se è una pistola per difendere il proprio domicilio, oppure tipo se mette in fuga il ladro, il ladro scappa, non lo può colpire, non gli può sparare, cioè ci sono sei diversi casi proprio a livello di cronaca. Anche qui poi c'è sempre la classica domanda, la classica linea, cioè si dice sempre se io detengo un'arma in casa e sparo al ladro, nel gergo comune si osa dire, sono io quello poi che va in galera. Ecco, anche sotto questo aspetto, un attimo, chiariamolo meglio, anche se è difficile, però dare un attimo anche due linee guida. Proverò a essere il più possibile pratico, semplice, seguendo l'esempio che tu fai. L'intromissione di un soggetto nel nostro domicilio, un ladro o di un soggetto che comunque attraverso un'effrazione o entrando nel nostro domicilio si pone, entra nella nostra sfera di disponibilità più intima, è certamente un dato particolarmente preoccupante che può dar vita a delle preoccupazioni in sé, a una dinamica reattiva in sé. Per varie ragioni, siamo quasi nell'ovvio, è difficile avere certezza come soggetto che vive in una casa delle intenzioni di chi si è introdotto nel nostro appartamento, non sempre è semplice riuscire a decodificare questo tipo di situazioni. E tuttavia esiste una casistica molto variegata di cui possiamo anche discutere, ma certamente gli esempi che tu facevi sono degli esempi identificativi di che cosa non è legittima difesa. Se sono il proprietario di una casa e sto dormendo nel mio letto e mi accorgo attraverso, ascoltando dei rumori che c'è qualcuno in casa, mi alzo ma vedo della gente fuggire da casa. Se imbraccio la mia arma legalmente detenuta e sparo ad una persona che sta andando via, quella non può essere legittima difesa perché non c'è più, come dire, il soggetto ha desistito da quel tipo di azione e non c'è più la necessità di autotutelarsi che legittimerebbe l'utilizzo dell'arma. Il discorso può farsi più complesso rispetto all'aggressione, nel senso che il problema vero lì è la ricostruzione di una situazione che sia effettivamente di aggressione. Ma anche lì esistono dei casi di scuola, nel senso che se sono sempre lo stesso proprietario o inquilino di un immobili vengo svegliato da rumori, vado in una stanza, vedo un ladro rovistare in un cassetto e subito dopo vedo questo ladro provare ad andare via, anche se non si è ancora posto fuori dalla nostra area di disponibilità, ce l'ho ancora vicino, ma se ha provato a rubare degli indumenti e sta cercando di andare via, da un lato probabilmente sta per desistere dall'azione, ma soprattutto l'aggressione è in quel momento un'aggressione molto limitata e solo al bene materiale, è un'aggressione veramente molto limitata. Il discorso molto diverso è se girandosi questo ladro è attente in qualche modo anche alla nostra incolumità. Dopodiché noi stiamo discutendo ovviamente su carta di valutazioni che si fanno ex post, di valutazioni che sembra facile ovviamente svolgere. Sul momento è delicatissimo e guarda qua ti dico che qua si misura il vero problema di questi istituti, il vero problema di questi istituti è che la casistica delle condotte umane, degli episodi della vita, è ampia, è molto ampia e a chi può aspettare, accertare se veramente c'è stata un'aggressione, se veramente l'arma è stata utilizzata correttamente per difendersi, non potrà che aspettare a un magistrato. Un'altra domanda che ti faccio è sempre sotto questo aspetto, c'è il classico caso anche se una persona ha tipo un'arma diversa, cioè tipo io ho la pistola, lui ha il coltello, c'è una misurazione anche su questo, cioè se io vengo aggredito però quella persona imbraccia un coltello, io ho una pistola, magari col coltello posso difendermi, cioè anche lì c'è una valutazione da fare. La valutazione è sul versante della proporzionalità, cioè ci deve essere proporzionalità nel rapporto tra offesa e difesa e quindi anche rispetto ai mezzi dell'offesa e della difesa. Tuttavia gli esempi ovviamente possono essere tanti, l'utilizzo di uno strumento come un coltello può essere un utilizzo anche potenzialmente letale, nel senso che, intendiamoci, dipende come viene utilizzato un coltello o un taglierino o qualunque altra arma di offesa, apparentemente ha un'efficacia letale minore di una pistola ma in concreto in realtà invece potrebbe essere particolarmente pericolosa un'aggressione di quel tipo, per cui non c'è uno standard che è di tipo qualitativo, se aggrisci con un coltello non puoi utilizzare una pistola. Il tema non è questo, il tema è che ci deve essere proporzioni in concreto rispetto a ciò che avviene, perché se ho un taglierino in tasca, lo agito senza muoverlo ma sono a distanza e la reazione è sparare immediatamente, è chiaro che ci può essere una valutazione poi in concreto della proporzionalità, ma se utilizzo quel taglierino puntandolo alla gola di un soggetto che in quel momento è disarmato in un letto, riesce un attimo a divincolarsi e per difendersi prende da un cassetto una pistola e spara, probabilmente lì c'è proporzione, la verità è che i mezzi sono importanti ma l'accertamento è un accertamento globale rispetto alla proporzionalità tra l'offesa che si sta provocando e la difesa intesa come modalità della difesa e situazioni di difesa. Arriviamo al punto dolente perché il tema della legittima difesa è un tema che sta avendo dibattito in questi giorni, il governo comunque ne ha parlato, abbiamo avuto anche diversi casi di cronaca, sotto questo aspetto ci sono possiamo dire tanti disegni di legge, chiamiamoli così, la domanda che ti faccio è più che altro quali sono le linee guida secondo te da seguire verso questo cambiamento che il governo vuole fare, innanzitutto cosa può accadere e poi ti chiederò anche, ma te l'anticipo già, anche un po' il tuo pensiero su questi nuovi disegni di legge. Allora, la discussione è una discussione che si è riattivata con la, sostanzialmente, la nuova formazione di governo con il nuovo Parlamento, ci sono proposte di legge che sono state depositate in Parlamento subito dopo l'inizio dell'attuale legislatura e ovviamente l'impulso è un impulso che segue le logiche della politica, quindi anche le logiche spesso legate al momento, alla risposta che si vuole dare immediata e in modo urgente a delle situazioni di cronaca, anche particolarmente note, penso ad esempio ultimamente a questa vicenda che ha colpito, coinvolto un po' tutti, dell'assalto nella villa abruzzese in cui c'è stato questo terribile, questo terribile epilogo dell'ingresso in casa dei malavitosi. Ora, è chiaro che le esigenze della politica, anche sul versante della comunicazione, della reazione immediata rispetto ad alcuni fatti di cronaca anche molto gravi, si possono comprendere. Tuttavia, la verità è che parlare di una urgenza sul versante della riforma e della legittima difesa è dal mio punto di vista un fordopera. In sé non c'è nessuna urgenza di intervenire su questa disciplina perché i fatti di cronaca sono dei fatti che si ripetono in modo ciclico, purtroppo e drammaticamente, sono fatti della vita, la vita e la vita di relazione che è così. Pendono però, per tornare sulla tua domanda, pendono in Parlamento molti disegni di legge, per mia contezza ne pendono cinque in commissione, attualmente radicati in commissione di giustizia al Senato, ci sono degli altri disegni di legge che sono stati depositati della Camera, spesso sono corrispondenti anche rispetto agli interventi. Gli interventi proposti sulla disciplina della legittima difesa sono variegati, li possiamo ricostruire nel dettaglio e forse sarebbe anche molto noioso. Il tema di fondo però è questo, la politica in genere, soprattutto l'idea di questo governo e dei deputati che rispondono ai partiti di governo, è un'idea che viene da lontano, spesso riproposta, che affiora ciclicamente nel dibattito, spesso si traduce in proposte di legge, ma a mio parere così di anticipo il mio giudizio è un'illusione. L'idea è questa, poter determinare delle presunzioni legislative di legittima difesa, cioè fare in modo che la legittimità dell'azione difensiva venga valutata in modo, venga predeterminata dal legislatore, dalla legge, togliendo così la discrezionalità di accertamento dei magistrati, cioè sullo sfondo di tutto questo, diciamoci la verità. Cosa c'è? Ci sarebbe la volontà di evitare addirittura l'iscrizione di un procedimento penale che segue generalmente a pochi giorni di distanza quegli episodi di cronaca anche molto noti in cui si utilizza un'arma spesso per difendersi. Ora, lo scopo sarebbe evitare addirittura che nasca il procedimento in maniera da rendere il cittadino che si difende libero dal rischio penale in sé. Il rischio che qui consisterebbe è il rischio di essere sottoposto al procedimento penale e quindi dover pagare la pena, perché questo in sé già è, di subire un procedimento penale. Se non che, questa è una linea guida di tante delle proposte che leggo, attuata con modalità diverse, con tecniche diverse, però sullo sfondo poi questo c'è. Il rischio anche di un abuso sotto alcuni aspetti, qualora dovesse passare questa linea, cioè una persona che sa che non è sottoposta al procedimento, nel senso potrebbe passare il messaggio che uno tanto, tra virgolette, non viene coinvolto in un procedimento, quindi potrebbe azzardare una situazione che nella normativa attuale invece non c'è. Questo è un pericolo enorme, però prescinde dalle proposte di legge, alcune delle quali apportano delle modifiche di tipo tecnico, non necessariamente hanno come finalità ultima quella di creare degli spazi di impunità. Questo non c'è, soprattutto non c'è in tutte le proposte di cui si discute e soprattutto, intendiamoci, siamo all'inizio di un vaglio parlamentare. Io sono in questo un ottimista e credo nella virtù del Parlamento, credo insomma che ci sarà un ampio dibattito in Parlamento coinvolgendo anche autorevoli, voci tecniche. Io ho contezza del fatto, perché ho avuto occasione insomma di leggere questi interventi, in contezza del fatto che in Commissione Giustizia vi è stata l'audizione di importanti, autorevolissimi docenti universitari, delle organizzazioni di categoria, quindi insomma siamo all'inizio di un dibattito che speriamo possa crescere anche a livello di contenuti e di attenzione al tema e che invece non si riduca a degli slogan, perché poi è chiaro che quelli sono invece drammatici. Io continuo a pensare che non si possa legittimare anche a livello di messaggio comunicativo l'idea del far west, cioè non si può essere d'accordo con qualunque tipo di proposta legislativa che intenda raggiungere degli spazi di impunità sottratti all'accertamento giudiziale. Secondo me questa è un'illusione, dopodiché le proposte sono variegate, una interviene specificando, ad esempio mi sembra una delle più note, specificando degli aspetti della legittima difesa domiciliare, quindi ampliando l'ambito della legittima difesa domiciliare fino a ritenere comunque legittima l'attività che sia funzionale a proteggere il domicilio, proteggere rispetto all'intromissione nel domicilio. È una sorta di anticipazione della reazione. Qualche proposta sembra voler allargare addirittura l'ambito della cosiddetta legittima difesa putativa, cioè quando si commette un errore rispetto alla percezione dell'aggressione subita. Questa la trovo una cosa molto delicata perché putativo su questo versante vuol dire che il soggetto contro cui si rivolge la difesa è un innocente, non ha fatto nulla contro di noi. C'è un errore di percezione di chi si sta difendendo. Insomma i temi sul tappeto sono tanti, però ripeto questo secondo me il nodo di fondo. Se l'obiettivo è quello di evitare che possano sorgere i procedimenti penali funzionali ad accertare se la difesa che il cittadino ha posto in essere è legittima, se la finalità è quella. Siamo di fronte a una finalità che da un lato è un'illusione, secondo me non potrebbe mai realizzarsi in pieno. Dall'altro è anche estremamente problematica perché la legge non riuscirà mai a prevedere la casistica infinita che è la casistica della vita e che necessita di un accertamento in concreto del magistrato. Direi che siamo giunti alla conclusione, grazie mille all'avvocato Tesoriero per essere stato presente qui e aver chiarito un po' quella che è la situazione attuale, quindi ci ha un po' rinfrescato la memoria su quella che è la normativa della legittima difesa e su cosa adesso si sta discutendo in Parlamento, su una tematica veramente che sta tenendo banco e credo terrà banco. Detto questo credo che torneremo sull'argomento anche qualora ci fossero ulteriori novità. Io intanto ringrazio ancora l'avvocato Salvatore Tesoriero per essere stato qui all'angolo di The Voice, grazie mille. Grazie a voi e spero che ci siano delle altre occasioni, sono molto contento di aver partecipato. Grazie mille ancora all'avvocato Tesoriero, con questo Mario Giulianti vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima puntata con la speranza di aver fatto una maggiore chiarezza sulla tematica della legittima difesa e sperando anche che possiamo continuarne a parlare ancora perché come si dice nel gergo vi terremo aggiornati. Detto questo vi ringrazio nuovamente, grazie mille da parte mia, da parte del nostro ospite, l'avvocato Salvatore Tesoriero, un saluto, rimanete qui con noi, rimanete su Nettuno TV, rimanete soprattutto con l'angolo di The Voice. Grazie mille e alla prossima puntata.